mamma mia ragazzi che visione sovrannaturale a mesi che freschezza soprattutto dove ci troviamo secondo voi scrivetelo sotto nei commenti esatto ci troviamo a castiglione della pescaia castiglione della pescaia è una poesia e niente oggi ragazzi è la nostra prima volta in muscolare in questo luogo è un luogo che è risaputo a delle salite mortali e delle discese mortali e a noi piace tantissimo perché ci permette di metterci alla prova oggi infatti siamo diciamo mancano circa un mese alla gara e abbiamo deciso alla gara che faremo a piombino e abbiamo deciso di iniziare un po metterci alla prova con salite più bastarde e discese altrettanto più bastarde quindi niente vi portiamo con noi come sempre ve lo ricordo subito iscrivetevi mettete mi piace commentate perché il vostro sostegno è la nostra benzina è diventato la cosa fondamentale lo spam alle nonne esatto esatto ci vediamo in salita vediamo su sì ragazzi ragazzi aggiornamento passo molto costante è caldissimo è uno dei primi caldi dell'anno ci saranno 20 gradi comunque dobbiamo arrivare lassù e insomma di strada ce n'è ancora un po mamma mia ragazzi ragazzi che dire che dire la salita non fa per noi no ma per fare la discesa ci vuole la salita quindi mamma mia ragazzi si sale si sale panorama super però porca miseria se è faticoso prima discesa di giornate ragazzi mamma mia no stiamo scherzando però siamo quasi arrivati in cima è stata molto dura molto dura e non siamo ancora arrivati però atteggiamento giusto impostazione giusta ragazzi vi ricordo che questa serie si può fare è stata fatta per provare a gareggiare da totalmente amatori quindi senza pretese solo con lo spirito di divertirsi e senza il giusto allenamento perché noi appunto ci stiamo provando ad allenare ma molto soft e vedremo dove arriveremo poi una volta che faremo l'episodio finale con la gara uscirà anche un video con tutte le nostre sensazioni e i nostri consigli per voi in esperti come noi ma un po di più quando vuoi inizia con termine 24 il nostro preferito fede già partita bomba ragazzi vi concentrazione massima perché è veramente difficile ragazzi siamo cotti questi tre lunghissimi distruttivi ci mettono sempre a dura prova ho preso un mocino tanto per cambiare oddio beautiful mamma mia ragazzi è discesa amazing abbiamo parlato poco perché veramente o concentravamo e cioè o ci concentravamo e respiravamo o parlavamo e morì esatto questo è una delle discese che ci mette sempre più a dura prova non tanto per la difficoltà che comunque si la difficoltà c'è però quando le braccia non rispondono e le gambe pure inizia a essere difficile proprio mantenere il controllo della bici in queste discese ecco perché per noi è così challenging come diciamo sempre non lo facciamo solo scopo di divertimento mamma mia ragazzi stiamo andando a mangiare perché è la parte più importante della giornata buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito ragazzi mi fa fede hanno rubato gli occhiali e ha lasciato sul tetto della macchina Dio mi dispiace vedo qualcuno con gli occhiali è la fine ma retta cosa farà fede? scrivetelo sotto nei commenti vada c'hai la tasca del marzupio dove l'ha comprati? sono anche rari eh quelli non è che si trovano così mamma mia quel vento che ti ammazza mamma mia ragazzi ecco la pausa è quello che avevamo bisogno ebbene si ragazzi abbiamo appena mangiato guardate com'è com'è fresh fresh questo ragazzo ho preso i succhini i succhini e gelettino quindi adesso mamma mia ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo abbiamo mangiato dove siamo carichi? sentite la nostra siamo già più carichi mamma mia voi il bello è che vedete solo le parti belle del video non vedete noi che si sale e si smoccola scrivete sotto nei commenti hashtag a fede hanno pulato gli occhiali attenzione stiamo risalendo da un segreto sentiero sentiero segreto per carità guardate qua panorama da spettacolo ma salita maremma all'allucinante infrittata si fa sentire ragazzi bestia però a primo impatto questa salita è molto più fattibile si dai questa l'abbiamo fatta un po' più fattibile che abbiamo sempre fatto però aiuto aiuto siamo partiti da laggiù in fondo ma tira ragazzi è tutta ripagata mamma mia tanto mamma mia ragazzi la pendenza di questi posti è è qualcosa di meraviglioso impressionante siamo morti siamo a 20 km quasi e ora vi faccio vedere cosa c'è dopo perché questo non è niente mamma mia ragazzi questa non ci pedala andiamo via mamma mia ragazzi questa non ci pedala andiamo via mamma mia ragazzi siamo sul punto più alto più o meno ciao signori ci siamo siamo che succede qui siamo arrivati all'ultimo trail del giorno fede quando vuoi io non ho più zero proprio energie oh mamma so qui ma senza senza la testa oh mamma un po' sfatto un po' sfatto testa poca fisico pure dai l'importante è partecipare si vede che ci sono passati un sacco di rider con la gara che è tutto veramente distrutto ragazzi ragazzi abbiamo cambiato fotocamera perché la gopro si è scaricata andiamo via for the last part of this beautiful amazing mamma mia non ne posso più or ooooh 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 bestia ooooh 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 mamma mia fede sassi ovunque oh oh beautiful oh c'è puzzo di freno c'è puzzo di freno beautiful signori signori anche questo trailer è finito siamo venuti dopo la gara e quindi c'era veramente il devasto però vabbè i trail si fanno sempre si fanno sempre apprezzare è stato un po difficile perché tutti sti sassi signori ho finito tutte le batterie e le memorie tutto 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 abbiamo siamo saliti ci siamo divertiti abbiamo scesi abbiamo rischiato perché abbiamo mangiato mangiato le crepe e ora è il momento di tornare a casa più bella di tutto è che abbiamo visto abbiamo esatto esatto comunque signori questo è stato un video che spero vi abbia divertito noi vi invitiamo come sempre a mettere mi piace il commentino come sempre ragazzi mi raccomando ragazzi commento mettetecelo perché mi fa veramente piacere soprattutto ora qui inquadra qui c'è scritto ride with style hashtag ride with style ma ci sarà presto hashtag lo spam alle nonne dio ragazzi è stato veramente bello ci vediamo al prossimo video al prossimo episodio un saluto quando è il prossimo episodio il prossimo e ragazzi soprattutto buon appetito ciao